Nasce in Toscana la Task Force Lupo, si chiama così lo strumento di coordinamento costituito sotto la direzione della Vicepresidenza della Regione Toscana che sarà punto di riferimento per gli allevatori della Regione con l'obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili per prevenire e gestire le varie tematiche attinenti agli attacchi dei lupi. Lo stabilisce la delibera appena approvata dalla Giunta che istituisce di fatto una bussola che servirà oltre alla prevenzione agli allevatori colpiti da attacchi da lupi fornendo informazioni circa le varie possibilità di beneficiare di esarcimenti o specifici finanziamenti. I componenti dello strumento di coordinamento saranno individuati tra i dipendenti del settore attività faunistico, venatoria e pesca. Tutti i dipendenti dunque della Regione Toscana per il momento non sono coinvolte ma non è escluso che lo saranno in futuro le associazioni di categoria. Grazie